Grazie per supportare il nostro canale. Il 75enne ha affermato che la collega è troppo invadente nelle trasmissioni TV e sebbene ultimamente fosse a suo dire migliorata. È convinto che non sentirà la sua mancanza. Non mi sentirò molto la mancanza. Ci ho lavorato parecchio insieme. Ultimamente era molto migliorata. È sempre stata troppo invadente. Monopolizza lo spazio, ha prevaricato il suo ruolo. Prima non si preparava, ora ha imparato a farlo, ha dichiarato al quotidiano sportivo. La Ferrari, che ha 60 anni, ne compirà a 61 ottobre, qualche giorno fa parlando della sua decisione di allontanarsi dal video ha fatto sapere, basta. Mi dicono che sono vecchia, accompagno la nazionale in Qatar e poi saluterò a tutti per dedicarmi a tempo pieno al cinema insieme con il gruppo Lucesano. Grazie per la visione!